Si chiama la battaglia di Pozzo Alto, quota 204, il progetto dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo per commemorare l'ottantesimo dello sfondamento e rendere il luogo in cui tutto è iniziato riguardo alla liberazione dai nazi fascisti un punto di memoria indelebile e fruibile. Dal punto di vista, diciamo, culturale, di conoscenza delle scuole e anche dal punto di vista turistico perché molti vengono da Mezzomondo per verificare i drammatici fatti, ahimè anche i loro figli, i defunti che ci sono stati, penso citando due cimiteri importanti, il cimitero di Montecchio e quello di Gabice Gradara degli inglesi, canadesi e i morti di Mezzomondo. Storici e associazioni hanno collaborato per tracciare la presenza dei bunker sul territorio che va da Montecchio a Pesaro passando da Borgo Santa Maria, Pozzo Alto e Case Bruciate. L'iniziativa punta allo stombamento dei bunker ma anche a realizzare un portale dedicato alla storia e al percorso in cui si trovano i siti di interesse. Verrà organizzato poi un convegno specifico sulle vicende di quei giorni. In programma anche una rassegna legata alla memoria della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre durante il 2024 verrà prodotto un libro con l'evento di commemorazione il 30 e 31 agosto a Borgo Santa Maria, luogo dove è avvenuto lo sfondamento. Grazie all'impegno dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e alla sinergia con Hauser e il Circolo Pozzo d'Argento è stata presentata la domanda alla Regione Marche per la concessione di contributi. Il progetto è stato finanziato con il maggior punteggio e con un contributo di 15.000 euro su un progetto di circa 25.000 euro. È molto importante, questo è l'avvio di un finanziamento di 25.000 euro per ricordare se ce ne fosse bisogno, dato che continuiamo a fare le guerre in giro per il mondo, che le guerre portano fame, miseria, distruzione e tanti tanti, ahimè, morti. Quindi bisogna che soprattutto le scuole studiano cosa è successo lungo la linea gotica per evitare che si ripetano fatti di questo genere.